Siamo qua alla scuola Arti Marziale del mitico maestro Santini Quest'anno cosa proponete maestro? La ripresa in sicurezza La ripresa in sicurezza Le nostre discipline sono Lo yoga, l'alchido, il karate, il polko mood Il kung fu con lo shaolin chuan e il tai chi chuan E poi la preparazione fisica e il body building Da che età? Si potrebbe dire da 0 a 108 Però tiriamo via le ultime cifre Tagliamo la testa e la coda Due anni? No, no Quattro? Anche cinque Cinque anni E se uno si vuole scrivere dove viene o che numero fa? Viene in via Gramsci 33 Di fronte alla farmacia E noi siamo lì Tutti i pomeriggi? Tutto il giorno sicuramente Grazie maestro Grazie a lei Buongiorno